ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di gagliardi fotografi oggi ci occuperemo sia di unboxing che anche di domotica o meglio di smartphone e vedremo delle nuove luci della philips come potete vedere dalla confezione si tratta delle luci philips you play ed è una coppia di luci colorate rgb intanto apriamo la scatola abbiamo le basi verticali e le basi orizzontali ora le vediamo nel dettaglio questa è la base verticale questa è la base orizzontale e questa è la lampada questo invece è l'alimentatore come vedete ha tre uscite quindi è possibile collegarci fino a tre lampade bene adesso non resta che collegare il tutto alla corrente e poi vedere com'è la configurazione almeno sul nostro iphone e poi e poi Grazie a tutti. Ecco qua, adesso abbiamo finito, apriamo l'applicazione YouSync per Mac e vediamo come si comportano le luci. Le sincronizziamo con la musica e diamo il via alle danze. Ecco, adesso sempre con l'applicazione YouSync per Mac, mettiamo la regolazione anziché su music, su video. Vediamo che succede, proviamo a cambiare per esempio pagina del browser. E anche quando si visualizza una pagina e si scorre, vediamo benissimo che i colori delle lampade cambiano continuamente. La nostra prova è terminata, ricordiamoci solo che abbiamo sistemato le luci dietro l'IMEC in posizione verticale. Le luci si possono attaccare anche in posizione orizzontale oppure con un adesivo speciale della 3M anche dietro al televisore o in questo caso all'IMEC. Ciao a tutti e arrivederci al prossimo episodio. Mi raccomando iscrivetevi al canale Gagliari di Fotografi, mettete un like se vi è piaciuto il video. Ciao!